Ho ritrovato la ricetta di mia nonna della mia pasta preferita, eccola qua, canneroni alla ciociara. Quando rifaceva era una festa, e meno male che l'ho conservata. Se prendete carta e penna ve l'ha detto. Allora, fondete del cioccolato. Come fondete del cioccolato? No, ma non deve essere questa. Ecco, ho fatto, addio ricetta. E mo' che faccio? Vi siete bagnati tutti gli ingredienti? Meno male che ci è rimasta la cosa più importante. Questa, come la fai, la fai, è buona sempre. La molisana, grano amore e fantasia. Grazie a tutti.